Botta e risposta infuocato tra il gruppo politico Fiamma Tricolore e le associazioni che operano a Riace nel campo dei progetti dell'accoglienza di migranti. Il gruppo politico nei giorni scorsi nell'annunciare una manifestazione a Riace per il prossimo 1 luglio avrebbe accostato il metodo di gestione dei progetti di accoglienza al modus operandi di Isola Caporizzuto, con esplicito riferimento all'ultima operazione giudiziaria della DDA di Catanzaro. Siamo indignati per l'ignobile accostamento ai fatti successi ultimamente a Isola Caporizzuto, denunciano le associazioni riacesi, supportati da tutti i rifugiati inclusi nei progetti di accoglienza. Le associazioni si riservano così di perseguire le vie legali nei confronti di Fiamma Tricolore. Contro il tentativo scrivono di delegittimazione e contro le assurde dichiarazioni rese. Un'organizzazione politica aggiungono poi le associazioni in una nota stampa che fonda la propria ideologia sull'odio razziale e con motivazioni di tipo nazionalistiche che nel caso di Riace offendono la dignità di esseri umani in fuga dalle guerre e dalle persecuzioni ed evidentemente nutrono avversioni politiche nei confronti di Riace. A Riace tutta la comunità è uno sprar, i rifugiati sono protagonisti e cittadini preziosi nei processi di un possibile sviluppo sociale, economico, culturale ed etico. Le associazioni ribadiscono che la gestione dei progetti a Riace segue logiche opposte all'affarismo e all'intreccio tra mafia e potere economico.